Dal libro Dottrini di Salvezza, volume 3, capitolo 4. Il millennio è la nuova Gerusalemme. La vita sulla terra paradisiaca. Il millennio purificatore è ora alla porta. Questa è la parola del Signore. Ogni carne è corrotta al mio cospetto. Dal 1831, quando il Signore disse queste parole, il mondo non è migliorato. Oggi questa terra si lamenta sotto la violenza della corruzione e del peccato. La malvagità regna nel cuore dei figli e dei uomini e continuerà a regnarli secondo le rivelazioni del Signore fino al giorno in cui Cristo verrà nelle nuvole del cielo, come egli ha detto, vestito di rosso, animato dallo spirito della vendetta per castigare gli empi e per purificare la terra dal peccato. Il periodo di tempo in cui la terra sarà purificata dal peccato noi lo chiamiamo millennio. Noi lo aspettiamo con grande ansia. I profeti hanno parlato di esso. Ai nostri giorni dei messaggeri sono venuti dal cospetto del Signore dichiarando che esso è ora alle nostre porte. E malgrado ciò, molte persone, anche presenti degli ultimi giorni, pensano ai loro affari come se questa venuta del Signore Gesù Cristo, l'avvento di questo regno di pace, fossero stati proposti indefinitivamente per molte generazioni. Io vi dico che esso è alle nostre porte. Io affermo questo con la massima fiducia perché lo ha detto il Signore. Lo hanno detto anche i suoi messaggeri venuti dal suo cospetto per rendere testimonianza di Lui. I santi sono pronti per il millennio? Noi siamo stati avvisati e preavvisati del grande e terribile giorno del Signore che è ora alla porta. Non è forse giunto il tempo per noi di farvi attenzione? I membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non dovrebbero essere assennati, dotati dello spirito di umiltà e di fede e di preghiera nel loro cuore, sforzandosi di conoscere i fini del Signore e di camminare al suo cospetto in rettitudine e pronti nel caso che quel giorno venga mentre siamo in questa vita? Non è un errore fatale pensare che quel giorno è ancora lontano, che non verrà durante la nostra generazione e che perciò possiamo in tutta sicurezza accogliere lo spirito del mondo ed aspirare alle cose di cui il mondo si diretta, alle sue follie e alle sue malvagità? Il Signore si aspetta cose migliori da noi. Egli si aspetta che osserviamo i Suoi comandamenti, che vigiliamo e preghiamo e rimaniamo in luoghi santi senza muoverci secondo quanto Egli ha dichiarato. Questi sono tempi pericolosi. Questa è un'epoca in cui noi ci troviamo in un grande pericolo. Pericolo dovuto ai insegnamenti dei uomini, pericolo dovuto alla mancanza di fede nel cuore dei stessi, pericolo perché le filosofie del mondo tendono a indebolirsi sulle cose fondamentali del Vangelo di Gesù Cristo. Queste sono le cose contro cui dobbiamo lottare. Oggi nel mondo c'è un senso di indifferenza verso la religione. La gente non adora Dio in spirito e verità, ma il Signore vuole che noi, membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi di Dici Giorni, adoriamo in spirito e verità, e camminiamo in vertitudine, e che rimaniamo fermi nella libertà con la quale siamo resi liberi, come detto in questa rivelazione. Quando verrà il millennio, la Terra sarà rinnovata. I Santi degli ultimi giorni credono che il giorno in cui Cristo farà la sua apparizione sulla Terra come legittimo soprano è vicino, anzi alla porta. Quando verrà quel giorno, tutta la Terra e tutte le cose che in essa vi verranno mutate, e la Terra sarà rinnovata e riceverà la sua gloria paradisiaca. Questo significa che la Terra sarà riportata a una condizione simile a quella che esisterà quando regnavano la pace e la giustizia e prima che vi subentrasse la morte con il suo spaventoso segno di sventura e di rovina. Quando verrà quel giorno, la malvagità dovrà cessare di esistere e tutte le creature immonde saranno spazzate via dalla Terra perché esse non potranno sopportare le mutate condizioni. Tutti gli elementi essi puri si fonderanno sotto il calore ardente e tutte le cose divaranno nuove affinché la mia conoscenza e la mia gloria possano dimorare su tutta la Terra e in quel giorno l'inimicizia dell'uomo e l'inimicizia delle bestie e l'inimicizia di tutte le carni cesserà dinanzi al mio cospetto. Perché cesserà? Perché tutte le cose della Terra che sono corruttibili saranno eliminate che hanno esso uomini e bestie e coloro che avranno avuto la malvagità nel cuore non potranno rimanere e essi saranno come stoppie e come tali saranno bruciati e annientati e così la Terra sarà purificata e la conoscenza dell'Eterno riempirà la Terra. Lo stato paradisiaco di tutta la vita durante il millennio E in quel giorno qualunque cosa uomo cheda gli sarà accordata e in quel giorno Satan non avrà potere di tentare nessun uomo e non vi sarà più dolore perché non vi sarà più morte in quel giorno un fanciullo non morrà prima di essere vecchio e la sua vita sarà come l'età di un albero e quando morirà Egli non dormirà sulla Terra ma sarà mutato in un batter d'occhio e sarà elevato ed il suo riposo sarà glorioso. Quello sarà un giorno glorioso esso non è un giorno che i giusti devono temere ma è un giorno spaventoso per i malvaggi come potete vedere da queste scritture e da molte altre che potrei citare perché tutti coloro che non si uniformeranno al Vangelo di Gesù Cristo e alla sua verità eterna non avendo quindi pace nel cuore saranno annentati. Allora il leone giacerà insieme all'agnello e mangerà la paia come il bue e tutta la paura l'odio e l'inimicizia scompariranno dalla Terra perché tutto ciò che ha in sé l'odio scomparirà e avverrà una trasformazione una trasformazione negli uomini una trasformazione nelle bestie nei campi e in tutte le cose esistenti sulla Terra. Secondo questa parola che ho letto regnerà l'armonia l'amore la pace e la giustizia perché Satana sarà legato e non potrà tentare nessun uomo. Questa sarà la condizione della Terra per mille anni inoltre i uomini vivranno liberi dal peccato e liberi dalle malattie e dalla morte fino a cento anni di età. Gli infanti non moriranno ma vivranno fino all'enclimento dello scopo della loro creazione mortale in effetti la mortalità sarà ridotta al minimo. Il lavoro del tempio da parte dei mortali durante il millennio. A causa della grande opera che deve essere svolta per la salvezza dei morti ci sarà mortalità sulla Terra durante i mille anni. Durante mille anni di pace nei templi si svolgerà l'opera del Signore e in essi opererà la gente per coloro che sono andati nell'aldilà e che aspettano che le ordinanze relative alla loro salvezza siano amministrate per loro da quelli che ancora dimorano nella mortalità sulla Terra. E così ci saranno uomini mortali ma essi vivranno fino a cento anni d'età poi all'improvviso saranno trasformati. Gli uomini avranno il potere sulle malattie e i loro corpi diventeranno vigorosi e forti perché quando Cristo verrà tutte le cose riceveranno una nuova creazione. la resurrezione dei giusti al principio del millennio quando il Signore verrà non ci sarà soltanto il cambiamento della Terra e di ciò che vi sarà come per esempio i pesci del mare gli uccelli dell'aria e gli animali della Terra ma si apriranno le tombe e i morti in rettitudine cioè coloro che osservarono i comandamenti dell'Eterno si leveranno dai loro sepolchi e riceveranno la resurrezione quale che sia il periodo in cui vissero. Tutti coloro che sono morti in Cristo risorgeranno dai morti alla sua venuta e diviveranno sulla Terra quando Cristo vi sarà durante il millennio. Essi non rimarranno qui per tutto il tempo durante i mille anni essi mischeranno a coloro che saranno ancora qui nella vita mortale. questi santi risorti e il Salvatore stesso verranno a dare istruzioni e guida ci velleranno le cose che dovremo sapere e ci daranno informazioni relative al lavoro dei tempi del Signore affinché si possa eseguire il lavoro essenziale per la salvezza degli uomini degni. Per ciò che si riguarda non importa se moriamo prima che avvenga quel giorno o se allora viveremo sulla Terra perché se moriamo in rettitudine alla risurrezione dei giusti risorgeremo anche noi e saremo rapiti in cielo per incontrare Cristo nelle nuvole di gloria quando Ehi verrà a prendere possesso della Terra come il Re del Re e il Signore dei Signori. Questo è il Vangelo di Gesù Cristo che è affermato nelle rivelazioni del Signore contenute nella Bibbia e in dottrina alleanze. Durante il millennio i malbagi rimarranno nella prigione degli spiriti. Tuttavia se non avremmo osservato i comandamenti del Signore se saremo stati ingiusti se avremo amato il peccato e se il nostro cuore sarà stato attirato dal male allora muoveremo e non rivivremo finché i mille anni non saranno terminati. È decartato che durante quei mille anni gli ingiusti rimarranno nella prigione preparata per loro dove potranno pentirsi e purificarsi attraverso le sofferenze. Giovanni nella sua grande visione vide il resto dei morti i quali non tornarono a vivere prima della fine dei mille anni. Pensare a questa cosa è terribile perché ci sarà un grande numero di uomini spazzati via dalla terra a causa della loro malvagità. i loro corpi rimarranno nella tomba e i loro spiriti nella prigione degli spiriti affinché mentre la terra godrà dei mille anni di pace si possa insegnare loro il pentimento e la fede in Dio. Io vorrei miei buoni fratelli e sorelle che leggessimo queste rivelazioni che ci rendessimo maggiormente edotti di quello che esse contengono perché quando Cristo verrà ci sarà un giudizio sappiamo che saranno aperti i libri che i morti saranno giudicati in base alle cose in essi scritte e che tra i libri ci sarà il libro della vita. Noi vedremo le sue pagine vedremo noi stessi esattamente come siamo capiremo bene che i giudizi che saranno emessi nei nostri confronti saranno giusti e veri sia che andremo nel regno di Dio per ricevere queste glorose benedizioni sia che saremo esiliati nel regno dei morti. Il Vangelo è la chiesa del millennio la cena delle nozze dell'agnello avrà luogo alla seconda venuta e una voce partì dal trono dicendo lodate il nostro Dio voi tutti i servitori voi che lo temete piccoli e grandi poi udì come la voce di una grande moltitudine e come il suono di molte acque e come il rumore di forti tuoni che diceva alleluia poiché il Signore Dio nostro l'Onnipotente ha preso a regnare rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la gloria poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino risplendente e puro poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi e l'angelo di mio disse scrivi beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello e mi disse queste sono le veraci parole di Dio questa profezia del matrimonio dell'agnello è un'allegoria della seconda venuta del nostro salvatore e della festa o cena che i giusti faranno al suo arrivo quando insegnava agli ebrei e più precisamente ai suoi discepoli il salvatore ritenendosi a se stesso menzionò la sposa i santi retti sono la sposa dell'agnello nel capitolo 21 dell'apocalisse la città della nuova gerusalemme era presentata allegoricamente dal matrimonio dell'agnello e vidi la santa città la nuova gerusalemme scendere giù dal cielo da presso Dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo e udì una grande voce dal trono che diceva ecco il tabernacolo di Dio con i uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno sui popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio e avvenne e uno dei sette angeli che aveano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe e parlò meco dicendo vieni e ti mostrerò la sposa la moglie dell'agnello e mi trasportò in spirito su di una grande alta montagna e mi mostrò la santa città gerusalemme che scendeva dal cielo appresso a Dio avendo la gloria di Dio il suo luminale era simile a una pietra preziosa agguisa di una pietra di aspro cristallino in dottrina alleanza troviamo quanto segue che la tua chiesa esca dal deserto tenebroso e risplenda bella come la luna fulgente come il sole e terribile come un esercito costendardi e che essa ti adorna come una sposa per quel giorno in cui tu svelerai i cieli e farai crollare le montagne alla tua presenza e farai sì che le valli si elevino ed i luoghi scabrosi divengano piani affinché la tua gloria possa riempire la terra la visione di Giovanni e la rivelazione di Joseph Smith si riferiscono entrambe allo stesso avvenimento la seconda venuta di nostro Signore nella sua potenza e gloria per ricevere la sua chiesa o regno essendo la nuova gerusalemme capitale della chiesa e non c'è alcun differenza di significato sia che si riferisca alla chiesa o alla nuova gerusalemme perché i giusti eriteranno la nuova gerusalemme perciò la sposa dell'agnello è l'organizzazione dei giusti che eriteranno la città santa la malvagità teleste conduce alla distruzione del millennio durante il millennio quando verrà il regno di Gesù Cristo soltanto coloro che avranno seguito la legge teleste saranno rimossi la terra sarà purificata da tutta la sua corruzione e malvagità coloro che avranno vissuto una vita virtuosa e che saranno stati onesti nei loro rapporti con il loro prossimo e che si saranno sforzati quanto più possibile di fare il bene rimarranno a malachia fu rivelato che tutti i superbi e chiunque opera empiamente saranno come stoppia e il giorno che viene li divamperà dice il signore degli eserciti e non lascerà loro né radice né ramo anche saia dichiarò che avendo il popolo infranto il patto eterno è profanato la terra perciò gli abitanti della terra sono consumati e poca la gente che ne è rimasta in in queste dispensazioni il signore ha rivelato quanto segue e si preparino alla rivelazione che sta per venire quando il velo che ricopre il mio tempio nel mio tabernacolo e che cela la terra sarà tolto e ogni carne mi vedrà allo stesso tempo e ogni cosa corruttibile sia dell'uomo che delle bestie del campo dei uccelli del cielo e dei pesci il mare che dimora su tutta la superficie della terra sarà consumata e gli elementi essi pure si fonderanno sotto il calore ardente e tutte le cose diverranno nuove affinché la mia conoscenza e la mia gloria possano dimorare su tutta la terra così apprendiamo che tutte le cose corruttibili sia i uomini sia le bestie che gli elementi saranno consumate ma tutto quello che non rientra in questo terribile è detto rimarrà perciò gli onesti e i giusti tutte le nazioni razze e credi che avranno seguito la legge terrestre o celeste rimarranno in queste condizioni le persone entreranno nel grande regno di Gesù portando con sé i loro credi e le loro dottrine religiose e non saranno private della loro libertà durante il millennio ci saranno varie chiese a questo proposito il presidente Brigham Young ha detto nel millennio i uomini avranno il privilegio dei loro credi ma non avranno il privilegio di trattare il nome e la natura della divinità come hanno fatto fino ad ora no ma ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che la gloria di Dio Padre che Gesù è il Cristo il profeta Joseph Smith ha detto durante i mille anni sulla terra ci saranno uomini malvaggi le nazioni pagane che non verranno ad adorare l'eterno saranno colpite dai castigli di Dio e alla fine saranno eliminati dalla terra il fatto che durante il millennio sulla terra ci saranno uomini malvaggi è stato frainteso da molti perché il Signore ha dichiarato che i malvaggi non rimarranno ma saranno consumati nel linguaggio del Signore questo termine malvaggi dovrebbe essere interpretato come scritto in Dottrina Alleanza sezione 84 versetti 49 al 53 qui il Signore parla di coloro che non hanno accettato il Vangelo definendoli malvaggi perché sono ancora sotto la schiavitù del peccato non essendo stati battezzati gli abitanti dell'ordine terrestre rimarranno sulla terra durante il millennio e saranno privi delle ordinanze evangeliche parlando del millennio il Signore per mezzo di Seiya disse poiché ecco io credo dei nuovi cieli e una nuova terra non ci si ricorderà più delle cose di prima esse non torneranno più in memoria rallegratevi sì festeggiate in perpetua per quanto io sto per creare poiché ecco io creo Gerusalemme per il Gaudio e il suo popolo per la gioia e io festeggerò a motivo di Gerusalemme e gioierò del mio popolo quindi non sudranno più voci di pianto né gridi d'angoscia non vi sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni né vecchio che non compie il numero dei suoi anni chi morrà a cent'anni morrà giovane e il peccatore sarà colpito dalla medizione a cent'anni la diffusione del Vangelo durante il millennio durante il millennio il Vangelo sarà diffuso molto più estesamente e con maggior impegno di sempre finché tutti gli abitanti della terra lo abbracceranno Satana sarà legato affinché non possa tentare nessuno se qualcuno si rifiuterà di pentirsi e di accettare il Vangelo in quelle condizioni allora egli sarà maledetto attraverso le rivelazioni fatte ai profeti sappiamo che durante il regno millenario di Gesù Cristo alla fine le genti abbracceranno le verità Isaia predisse questo nel millennio il lupo abiterà con l'agnello e il leone giacerà col capretto il vitello il giovin leone e il bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li condurrà la vacca pascolerà con l'orsa i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strame come il bue il lattante si trastullerà sul buco dell'aspide e il livezzato stenderà la mano sul covo del basilico non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'eterno come il fondo del mare delle acque che lo coprono questo è il capitolo d'Italia che Moroni citò al profeta Joseph Smith dicendo che stava per adempirsi se la conoscenza del Signore riempie la terra come le acque riempiono il mare allora essa deve essere accettata universalmente inoltre la promessa fatta dal Signore per mezzo di Geremia dice che non sarà più necessario per nessuno ammaestrare il suo prossimo dicendo conoscete l'eterno poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande dice l'eterno i fanciulli morti sceglieranno nel millennio il compagno o la compagna della loro vita continuamente vengono da noi persone per esprimere il loro timore che un loro figlio morto possa perdere la benedizione del regno di Dio a meno che non sia suggellato ad un defunto essi non conoscono quali fossero i desideri del loro figlio morto troppo piccolo per pensare al matrimonio ma vogliono andare dritti al tempio per celebrare un suggellamento una simile cosa è inutile e secondo me è sbagliata il Signore per tramite dei suoi servi ha detto che durante il millennio coloro che sono andati nell'altro mondo ed hanno ottenuto la resurrezione riveleranno di persona a coloro che sono ancora nella mortalità tutte le informazioni necessarie per completare l'opera di quelli che sono scomparsi da questa vita allora i morti avranno il privilegio di rivelare le cose che desiderano e che hanno diritto di ricevere in questo modo nessuno sarà trascurato e l'opera del Signore sarà completa è dovere dei genitori i cui figli sono morti in età da essere dotati andare al tempio e celebrare per loro questa dotazione quando questo sarà fatto si potrà abbandonare l'idea dello svolgimento di altro lavoro ad eccezione del suggellamento di questi figli ai loro genitori finché non venga il momento giusto il destino celeste finale della terra coloro che muoiono in rettitudine usciranno dalle tombe e sulla terra ci sarà l'unione dei morti con gli immortali Cristo e i santi risorti che detengono il sacerdozio istruiranno la gente affinché non vi saranno malintesi ed erroi questo felice periodo di pace durerà per mille anni e dal momento stabilito tutti i abitanti della terra saranno condotti nell'ovire della chiesa quando mille anni avranno fine satana sarà liberato per una breve stagione e la malvagità ritornerà sulla terra satana radunerà le sue forze e accettato dalla collera cercherà in vano di strappare la terra a Cristo Michele il grande principe l'arcangelo che un tempo onorò la terra e che era conosciuto come Adamo il padre dell'umana famiglia combatterà le battaglie dei giusti e vincerà avrà luogo l'ultima risurrezione e il resto dei morti che non avranno avuto un posto nel regno millennario si leveranno nel giudizio finale tutti gli uomini saranno giudicati secondo le loro opere poi verrà la fine e la terra subirà la morte per poi risorgere nella risurrezione che la renderà un corpo celeste e una dimora idonia per gli esseri celesti che dimoleranno per sempre al cospetto di Dio Padre e del figlio suo Gesù Cristo come sacerdoti e re dell'Altissimo due capitali millenarie del mondo Sion la terra di Giuseppe nella Bibbia ci sono molti riferimenti a Sion un paese o luogo separato e distinto da Gerusalemme due di questi passi si trovano nel capitolo 2 di Saie e nel capitolo 4 di Michea sarebbe sciocco dire che questi riferimenti a Sion riguardavano invece la collina Gerusalemme dove dimorava David per mezzo della rivelazione moderna il Signore ha resa noto che il continente americano è Sion sarà qui che sarà edificata la città di Sion la nuova Gerusalemme queste predizioni sono chiaramente espresse nel libro di Mormon e sono in perfetto accordo con gli scritti della Bibbia questo continente occidentale è conosciuto come la terra di Giuseppe e anche come la terra di Sion talvolta la città santa che deve essere edificata in questa terra è chiamata la città di Sion dovremmo ricordare che questi termini città di Sion e nuova Gerusalemme si riferiscono allo stesso posto santificato da cui uscirà la legge insieme alla parola del Signore da Gerusalemme anche la città di Enoch era chiamata Sion che per interpretazione significa la pura di cuore Giuda si raduna a Gerusalemme Ephraim a Sion avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli e tutte le nazioni affluiranno adesso molti popoli vaccoreranno e diranno venite saliamo al monte dell'Eterno alla casa dell'Eddio di Giacobbe e I ci ammestrerà intorno alle sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno da questo passo risulta chiaramente che la città menzionata da Isaia sono due e centri o centri separati questo è confermato dalla liberazione moderna la quale ci dice anche esattamente dove sarà edificata la città di Sion che è la nuova Gerusalemme per poter capire bene questo punto è necessario spiegare il fatto che la Palestina sarà il posto di raduno della tribù di Giuda e dei figli di Israele e gli sono associati dopo la loro lunga dispersione come predetto dai profeti l'America è la terra di Sion essa fu data a Giuseppe figlio di Giacobbe e ai suoi discendenti come realità eterna i figli di Efra figlio di Giuseppe e tutta la casa di Israele che gli associata si raduneranno a Sion o America nella benedizione che Giacobbe dette a suo figlio Giuseppe la verità dell'America è annunziata e delineata con queste parole Giuseppe è un ramo dell'albero fruttifero un ramo d'albero fruttifero vicino a una sorgente i suoi rami si stendono sopra il muro le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori fino a raggiungere la cima delle colline eterne esse saranno sul capo di Giuseppe sulla fronte del principe dei suoi fratelli come premio per la sua fedeltà e integrità Giuseppe ricevette benedizioni più grandi di quelle dei progenitori di Giacobbe e fu ricompensato con la terra di Sion i suoi fratelli con intenzione malevola lo separarono e lo scacciarono di mezzo a loro il signore per ricompensarlo lo separò dai suoi fratelli cioè dalle altre tribù di Israele e i dette un'ereità in una terra scelta al di sopra di tutte le altre terre che come abbiamo appreso dal libro di Mormon e dalla rivelazione moderna è l'America due città sante Sion e Gerusalemme in questo grande giorno di Raduno il signore ha comandato che quelli della casa di Israele che sono dispersi fra i gentili fuggano a Sion e quelli che sono della casa di Giuda fuggano a Gerusalemme alle montagne della casa del signore che è il loro luogo di Raduno in ogni terra sarà edificata una città santa che sarà la capitale da cui la legge e la parola dell'Eterno saranno emanate per tutti i popoli il salvatore disse ai Nefiti ed ecco questo popolo io lo stabilirò su questa terra per adempiere l'alleanza fatta col vostro padre Giacobbe e sarà una nuova Gerusalemme e i poteri celesti saranno in mezzo a questo popolo sì anch'io sarò in mezzo a voi Moroni scrivendo ai Giarediti disse ecco Eter vide i giorni di Cristo e parlò in merito alla nuova Gerusalemme che verrebbe fondata in questo paese parlò pure del casato Israele della Gerusalemme dove venne lei che dopo essere stata distrutta verrebbe riedificata una santa città consacrata al Signore dunque non avrebbe potuto essere una nuova Gerusalemme dal momento che era già esistita nei tempi antichi ma che verrebbe ricostruita e diverrebbe una città santa dal Signore e che sarebbe stata ricostruita per la stirpe di Israele due città sante Gerusalemme e la nuova Gerusalemme dalla rivelazione fatta al profeta Joseph Smith sappiamo che la città di Sion e la nuova Gerusalemme sono una sola identica cosa in varie rivelazioni il Signore menziona la nuova Gerusalemme che dovrà essere edificata per esempio si legge questo e sarà chiamata la nuova Gerusalemme una terra di pace una città di rifugio un posto di sicurezza per i santi dell'altissimo e la gloria del Signore vi dimorerà come pure il terrore del Signore al punto che i malvaggi non vi verranno e sarà chiamata Sion ed anche si la parola del Signore in merito alla sua chiesa stabilita negli ultimi giorni per la restaurazione del suo popolo come egli ha detto per bocca dei suoi profeti e per il raduno dei suoi santi sul monte Sion che sarà la città della nuova Gerusalemme l'antica Gerusalemme dopo che gli ebrei saranno purificati e santificati dai loro peccati diverrà una città santa dove dimorerà il Signore e dove si diffonderà la sua parola a tutte le genti analogalmente in questo continente sarà edificata la città di Sion o nuova Gerusalemme ed è da essa la legge di Dio uscirà non ci sarà alcun conflitto fra le due città perché ognuna sarà la sede centrale del redentore del mondo e dall'una e dall'altra egli farà i suoi proclami secondo necessità Gerusalemme sarà il posto di raduno di Giuda e dei suoi compagni della casa di Israele mentre Sion sarà il posto di raduno di Efraim e dei suoi compagni su cui capi pioveranno le più ricche benedizioni Sion e Gerusalemme città separate molte profezie della Bibbia accennano a Gerusalemme e a Sion come località separate è evidente che questi accenni non si riferiscono alla collina Sion che parte della città di Gerusalemme tra queste predizioni citiamo le seguenti o tu che recchi la buona novella a Sion sali sopra un alto monte o tu che recchi la buona novella a Gerusalemme alza forte la voce alzala non temere di alla città di Giuda ecco il vostro Dio l'Eterno ruggirà da Sion farà risonare la sua voce da Gerusalemme e voi saprete che io sono l'Eterno il vostro Dio che dimora a Sion mio monte santo è Gerusalemme sarà santa e gli stranieri non vi passeranno più in Isaia Sion e Gerusalemme sono chiamate città le tue città sante sono un deserto Sion è un deserto Gerusalemme una desolazione Isaia e altri profeti predicono che la sede centrale di Sion negli ultimi giorni sarà ubicata sui monti e i popoli di tutte le nazioni diranno venite saliremo saliamo al monte dell'Eterno alla casa dell'iddio di Giacobbe e Icciam maesterà intorno alle sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno Sion e Gerusalemme due capitali del mondo Joseph Smith traducendo il libro di Mormon apprese che l'America è la terra di Sion data a Giuseppe e ai suoi figli e che in quella terra doveva essere edificata la città di Sion o la nuova Gerusalemme e gli apprese anche che la Gerusalemme di Palestina doveva essere edificata divenire una città santa queste due città una nella terra di Sion e una in Palestina durante il millennio diverranno le capitali del regno di Dio nel frattempo mentre l'opera di preparazione è in corso e Israele si sta radunando molte persone stanno venendo nella terra di Sion dicendo venite saliamo al monte dell'eterno alla casa del Dio di Giacobbe i santi degli ultimi giorni stanno adempiendo questa predizione dato che si radunano provenendo da tutte le parti della terra e giungono alla casa del Signore in queste valli qui per mezzo della restaurazione del Vangelo e ricevendo le benedizioni dei templi essi sono ammestrati nelle vie del Signore inoltre prima che passino molti anni il Signore ordinà l'edificazione della città di Sion e nel tempo stabilito la Gerusalemme di Palestina sarà purificata e diverrà una città santa e la residenza degli ebrei dopo che essi si saranno purificati e saranno pronti ad accettare Gesù Cristo come loro Redentore i tempi di Sion e di Gerusalemme e manderò la giustizia dal cielo e farò uscire la verità dalla terra per portare testimonianza del mio unigenito figlio della sua resurrezione dei morti ed anche della resurrezione di tutti gli uomini e farò sì che la giustizia e la verità spazzino la terra come da un diluvio per raccogliere i miei letti dai quattro canti della terra in un luogo che io preparerò una città santa perché il mio popolo possa cingere le regni e attendere il tempo della mia venuta poiché là sarà il mio tabernacolo e sarà chiamata Sion una nuova Gerusalemme ed il signore disse a Enoch allora tu e tutta la tua città li incontrerete e noi li riceveremo nel nostro seno ed essi ci vedranno e getteremo loro le braccia al collo e ci getteranno le braccia al collo e ci baceranno l'un l'altro e là sarà la mia dimora e sarà Sion che uscirà fuori da tutte le creazioni che ho fatto e per lo spazio di mille anni la terra si riposerà quando Cristo verrà in adempimento di questo promesso sulla terra ci saranno due grandi città sante come sacri santuali o templi una sarà la città di Gerusalemme nella terra di Giuda che sarà ricostruita l'altra la città di Sinno o Nuova Gerusalemme nella terra di Giuseppe la terra di Sion l'America del Nord e l'America del Sud includono la terra di Sion i membri della chiesa riorganizzata ci informano che Sion non comprende lo stato dell'Ujuta ma si limita alla contà di Jackson Missui che alle regioni circostanti e di cui Nao Bu è una delle pietre angolari essi dicono anche che quando i santi sono venuti nell'Ovest essi hanno lasciato i confini di Sion inoltre i membri della chiesa suddetta asseriscono che poiché i templi dovevano essere edificati a Sion e a Gerusalemme tutti quelli che noi costruiamo nell'Ujuta e nell'Ovest non sono riconosciuti come i templi del Signore noi riconosciamo che il luogo centrale in cui deve essere edificata la Nuova Gerusalemme è la contà di Jackson Missuri non si è mai avuto l'intenzione di sostituire l'Ujuta o qualsiasi altro luogo con la contà di Jackson ma noi sosteniamo che Sion allorché si parla della Terra è vasta quanto tutte e due le Americhe essa tutta è Sion se Sion è limitata alla zona circostante la contà di Jackson allora è un vero peccato che Nefi non lo sapesse che cosa splendida sarebbe stato se al tempo suo ci fosse stato qualche membro della Chiesa riorganizzata per informarlo del fatto in questione allora egli e il suo popolo non avrebbero commesso l'errore di edificare templi come quello di Salomone a Gerusalemme giù nell'America centrale o meridionale ma avrebbero potuto costruire uno nella contà di Jackson o nelle regioni costante questa è stata davvero una disgrazia Sion una terra scelta al di sopra di tutte le altre terre ma parliamo seriamente il libro di Mormon ci dice che tutta l'America quella del nord e quella del sud è una terra scelta al di sopra di tutte le altre terre in altre parole Sion e il Signore disse ai Gialediti che egli li avrebbe condotti in una terra scelta al di sopra di tutte le terre del mondo sappiamo che essi approdarono nell'America centrale dove il loro regno esistette per la maggior parte del loro insediamento in America quando il Signore cominciò a guidare i membri della famiglia di lei in questa terra e gli disse loro e finché tu osserverai i miei comandamenti tu prospererai e sarai condotto a una terra promessa sì una terra che ho preparato per voi una terra preferibilmente a tutte le altre terre si capisce che approdarono nell'America del Sud e che durante la maggior parte della loro permanenza in questa terra essi i Nefiti e i Lamaniti si stabilirono nell'America meridionale e centrale in ogni modo trascorsero il periodo della loro civiltà principalmente nel Sud e non nella regione che ora comprende gli Stati Uniti questo dimostra al di là di ogni dubbio che la terra scelta era l'America del Sud nonché quella del Nord e che la città della Nord di Jerusalem che il libro di Mormon ci dice che sarà da costruire in questa terra che è scelta di sopra tutte le altre terre sarà ubicata nella Conte di Jackson ciò non di meno se si accetta il libro di Mormon si deve accettare tutto l'imispero come terra di Siam nella conferenza della Chiesa tenuta a Nau nell'aprile del 1844 il profeta Joseph Smith dichiarò che tutta l'America è Sion il giardino di Eden e la città di Sion sono la stessa cosa in conformità alle rivelazioni date al profeta Joseph Smith noi insegniamo che il giardino di Eden era ubicato nel continente americano e precisamente dove la città di Sion o Nuova Gerusalemme sarà edificata quando Adamo ed Eva furono scacciati dal giardino essi alla fine trovarono dimora in un posto chiamato Adam on the Aman situato in quella che ora è la cantea di Davis Missouri tre anni prima della sua morte Adamo convocò in quella località i suoi discendenti giusti e li benedisse ed è proprio questo il posto dove Adamo o Michele siederà in consiglio come si legge nel capitolo 7 di Daniele la terra di Sion e la terra di Gerusalemme si uniranno noi crediamo nel fatto che Adamo abbia dimorato nel continente americano ma quando Birisette non era il continente americano nell'emisfero occidentale perché tutta la terra era in un unico luogo e tutta l'acqua era un unico luogo non c'era alcun oceano atlantico che separasse gli emisferi poi Dio disse le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e apparisca l'asciutto e così fu e Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari e Dio vide che questo era buono se tutta l'acqua era raccolta in un unico luogo allora naturalmente anche tutta la terra era raccolta in un unico luogo quindi la forma della terra per quanto riguarda l'acqua e la superficie terrestre non era come oggi nella genesi si legge che ci fu un tempo in cui la terra fu spavartita alcune persone credono che questo significhi semplicemente che la superficie terrestre fu spavartita fra le varie tribù ma il significato non è questo una reale separazione della superficie della terra ed essa fu spezzata così come la vediamo ora il signor rivelo a Joseph Smith che come parte della grande restaurazione quando e i verrà la superficie terrestre sarà riportata alla sua forma originale e la terra di Sion e l'emisfero occidentale e la terra di Giuselemme ritorneranno al loro posto e la terra sarà di nuovo come era prima che fosse divisa Giovanni vide il tempo in cui ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati edificazione della nuova Gerusalemme prime speculazioni sulla ubicazione della nuova Gerusalemme quando si seppe che la nuova Gerusalemme doveva essere edificata in America i santi cominciarono a chiedersi quale sarebbe stata l'ubicazione della città Iran Page uno dei testimoni del libro di Mormon prese una pietra per mezzo della quale diceva di avere rivelazioni per la chiesa fra le cose che egli cercava di diffondere c'era il posto in cui doveva essere edificata questa città naturalmente si ebbe grande commozione e persino Oliver Cowdery fu ingannato sino al punto di accettare quello che aveva detto Iran Page il profeta Joseph Smith incontrò grande difficoltà nell'eliminare questo errore e nel calmare la mente dei membri della chiesa tuttavia da questo incidente derivò del bene perché il signore rivelò che soltanto una persona alla volta avrebbe posseduto il dono di ricevere rivelazioni per la chiesa e questa condizione sarebbe stata una legge con cui la chiesa sarebbe stata governata in questa stessa rivelazione il signore corresse il falso insegnamento di Iran Page dichiarando alla chiesa che l'ubicazione della nuova Gerusalemme non era stata ancora rivelata ma che quando ciò sarebbe avvenuto sarebbe stato sulle rive dei Lamaniti Oliver Cowdery fu incaricato di andare in missione presso i Lamaniti e successivamente Parle P. Pratt e Ziba Peterson furono chiamati ad accompagnarlo in questo modo il messaggio evangelico fu portato nella contea di Jackson Missui I Santi erediteranno Sian per il tempo e per le eternità Nel 1831 la sede centrale della chiesa fu trasferita da Fayette New York a Kirkland Ohio dove il signore disse che avrebbe dato alla chiesa la sua legge e che essi sarebbero stati dotati di poter dall'altro il signore promise anche di rivelare ai santi il luogo della loro eredità e questa sarà la mia alleanza con voi che voi l'avrete come terra di vostra eredità e per l'erità dei vostri figli per sempre finché durerà la terra e voi la possederete di nuovo nell'eredità come eredità in peritura quando i membri della chiesa si furono radunati a Kirtland il signore dette loro la sua legge e le istruzioni necessarie onde si preparassero per la loro eredità e gli esortò gli anziani a diffondere la sua parola verso le religioni occidentali e a edificare la sua chiesa fino al giorno in cui vi sarà rivelato dall'alto quando la città della nuova Gerusalemme sarà preparata affinché possiate essere radunati in uno che voi possiate essere il mio popolo e io sia il vostro al bescovo della chiesa furono date le istruzioni relative alle proprietà dei santi alla cura del magazzino al soddisfacimento delle necessità dei poveri e dei bisognosi ed infine alla raccolta dei fondi necessari per l'acquisto di terre e per l'edificazione della nuova Gerusalemme la cui ubicazione sarebbe stata arrivata di lì a poco il signore rivela l'ubicazione della nuova Gerusalemme ai primi di giugno nel 1831 a Kirkland fu tenuta una conferenza alla fine di tale conferenza e precisamente il 7 giugno il signore disse io il signore vi renderò noto quanto voglio che voi facciate da ora fino alla prossima conferenza che sarà tenuta nel Missuri sulla terra che consacrerò al mio popolo che è un rimanente di Giacobbe e di coloro che sono eredi secondo l'alleanza e così come ho detto se voi sarete fedeli voi vi riunirete assieme per allegrarvi sulla terra del Missuri che è la terra della vostra erità benché ora sia la terra dei vostri nemici ma ecco io il signore affretterò l'edificazione della città a suo tempo e coronerò i fedeli di gioia e di giubilio in ottemperanza a questo comandamento gli anziani viaggiarono in coppia e nel tempo stabilito arrivarono nella contea di Jackson Missuri la in risposta alla loro fervente preghiera il signore rivelò l'ubicazione della nuova Gerusalemme e il luogo dove si doveva costruire il suo tempo osaco santuario che Enoch ed Eter predissero sarebbero stato edificato negli ultimi giorni nel rivelare il luogo in questione il signore disse ascoltate o voi anziani nella mia chiesa dice il signore vostro Dio voi che vi siete riuniti secondo i miei comandamenti in questa terra che è la terra di Missuri che è la terra che ho fissata consacrata per il verduno dei santi questa dunque è la terra promessa è il luogo della città di Sion quindi fu specificato il posto per l'edificazione del tempio il 2 agosto 1831 Sidney Rino dedicò la terra come possedimento ed eredità dei santi ed il giorno successivo il profeta Giuseppe dedicò il posto del tempio in una località a poca distanza e ad ovest del tribunale di indipendenza rinvio dell'edificazione della nuova Gerusalemme che la nuova Gerusalemme o città di Sion e il tempio dovessero essere costruiti subito era naturalmente il pensiero dei fratelli riuniti in precedenza il Signore aveva dato ad essi un comandamento inerente ai loro doveri ed aveva dato loro le istruzioni relative alla sua legge da osservare a Sion e gli specificò anche che la città non doveva essere edificata a quel tempo voi non potete vedere coi vostri occhi naturali nel tempo presente i disegni del vostro Dio in merito alle cose che avverranno di qui a poco e della gloria che seguirà dopo molta tribolazione poiché dopo molta tribolazione vengono le bendizioni quindi viene il giorno in cui sarete coronati di molta gloria l'ora non è ancora arrivata ma è vicina è vero che in quell'epoca il Signore avrebbe benedetto i santi e che avrebbe cominciato la fondazione della città di Sion se essi avessero seguito fedelmente i suoi comandamenti ma queste sue parole è facile capire che la gloria di Sion era futura se bene nel senso spirituale essa fosse vicina in altre rivelazioni fu detto chiaramente che prima che Sion potesse essere edificata gli anziani avrebbero dovuto essere usati di potere dall'alto e quindi andare fra i vari popoli diffondere il Vangelo e radunare il popolo dalle estremità della terra così il Signore in principio disse ai santi che l'edificazione della nuova Gerusalemme e del suo sacro tempio sarebbe stata proposta finché non fossero compiute molte altre cose ed essi non fossero passati attraverso molte tribolazioni la città di Sion e il tempio devono essere ancora edificati sono trascorsi quasi cent'anni da quando fu dedicato il posto di Sion e scelto il posto per il tempio ed alcuni membri della chiesa sembrano temere che la parola del Signore venga meno altri hanno cercato di convincersi che il disegno originale è stato cambiato e che il Signore non vuole da noi questa grande opera che è stata predetta dai profeti dei tempi antichi noi non siamo stati sollevati da questa responsabilità e neppure lo saremo la parola del Signore non verrà meno se esamineremo attentamente la parola del Signore scopriamo che niente di tutto quello che Egli ha preannunciato è venuto meno ne tesserà uno iota o un apice senza che sia compiuta è vero che il Signore ha comandato ai Santi di inossare sì un tempio in suo onore e nome questo essi hanno cercato di fare ma sono stati ostacolati dai loro nemici pertanto il Signore non ha più richiesto che compissero l'opera a quel tempo tuttavia lo scioglimento dell'obbligo di costruire il Tempio non ha cancellato la responsabilità della costruzione della città e della casa del Signore in un tempo futuro quando il Signore riterrà opportuno che ciò sia fatto lo farà sapere al suo popolo e l'opera sarà eseguita e l'opera che ciò sia fatto che ciò sia fatto Grazie a tutti